Com'è che fa? Che coccodin! La 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 la, che coccodin! La 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 la, che coccodin! La 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 la, che coccodin! Oh Juventus, non rosicare! Fatelo per me, non rosicate! Tanto tu hai un gran campione che è Che su, che su, che coccodin! Com'è che fa? Che coccodin! La 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 la, 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 che coccodin! Oh Carollut, non rosicare! Fatelo per me, non rosicate! E tanto tu hai un gran campione che è Esu, esu, cam'è! La 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 la, che coccodin! La 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 la, che coccodin! Com'è? Un saluto a tutti ragazzi da Mario Inter! C'è, ci avete scassato tutto il tempo! Sì! Die, goccodin! La 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 la, die, goccodin! Vi rimane il campionato, vi rimane, mo! Solo quello potete fare! Solo quello potete fare! Cos'è il triplete? quest'anno è sicuro quest'anno vinceremo farete il sì come godo come godo a casa 2 a 0 di pappino è andata bene cartonati prescritti cinesi a casa a sto giro a casa ma non l'accetto e lo sfottò voi che me lo fate tutti i giorni tutti i giorni me lo fate tutti i giorni e così eccola a casa tenagli la casa a casa la juve ha fatto una partita di merda perché ha fatto una partita di merda allegri si frega allegri si frega perché mi lascia cansello fuori quindi si fottono ragazzi sono veramente contentissimo veramente contentissimo di questa sconfitta dalla juve non nego che sono veramente contento eccomi che fa la 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 la